Buongiorno a tutti ragazzi, ormai questa bandierina del Maragambo è una ventata mitica Ok, oggi non ha salita, non ha salita ragazzi Vediamo, se finisco oggi posso dire che sono a buon punto Noi ci vediamo come al solito in salita Fontanella, Borracce, Etta Ed eccoci ragazzi di nuovo al bivio Non so se riuscirò a sentire il vento Ma c'è un vento contro la paura Ma io dico no, ma non stavo bene tanto a casa Ma tutto a me mi vengono queste felicitè Ah, risalimo su Ci metterò un'ora per salire Vediamo qua Che oggi vi ho portato qua su eh Meno male che domani è l'ultima raga Meno male Il solito chiosco Mareneve Bar Mareneve Lascio con la collata lavica nel 2002 Noi ci vediamo domani per la decima e ultima salita Come al solito ragazzi iscrivetevi al canale È gratis A domani A domani Grazie a tutti